Il conflitto in Ucraina continua, con la Cina che il rompe in modo esplicito con i suoi 12 punti. Dal punto di vista finanziario, gli occhi restano puntati sull'inflazione e sulle contromosse di BCE e Fed. Nel frattempo, il Parlamento europeo ha sancito una decisa accelerazione verso la mobilità elettrica. Un anno di guerra e il 24 febbraio il conflitto in Ucraina ha compiuto un anno e la tensione non accenna a diminuire. E i giorni immediatamente precedenti e immediatamente successivi all'anniversario hanno confermato la centralità geopolitica della guerra. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha visitato Kiev, così come la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Secondo l'esercito ucraino, la Russia avrebbe raddoppiato la flotta in servizio nel Mar Nero, probabilmente in previsione di nuovi attacchi missilistici. L'UE, come confermato dall'alto rappresentante Giuseppe Borrell, ha adottato il decimo pacchetto di sanzioni nei confronti di Mosca. La novità più significativa, però, è che la presenza della Cina si è fatta più palese. Pechino ha stilato una lista di 12 punti, non un accordo di pace, ma un tentativo di rilanciare un dialogo, ponendo come elementi di base il cessate il fuoco e il bando all'uso di testate atomiche. Segnali di rallentamento dell'inflazione in Europa I dati stati diffusi a febbraio indicano che, nel mese di gennaio, l'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo ha segnato un aumento dello 0,1% su base mensile e del 10% su base annua. L'inflazione resta ancora molto alta, ma è stata limata rispetto al 10,1% previsto. E, soprattutto, è in netto rallentamento rispetto all'11,6% registrato a dicembre. Nella stessa direzione vanno le stime relative all'intera eurozona, con un tasso di inflazione dell'8,6%, infrenata rispetto al 9,2% del mese precedente. Come da tempo, ormai, il dato sull'inflazione viene atteso e osservato con particolare attenzione. La strada verso la normalizzazione è ancora lunga, ma i segnali di rallentamento potrebbero orientare le scelte della BCE. L'inflazione accelera negli Stati Uniti e la relazione tra inflazione e politica monetaria è tornata a destare preoccupazione dopo un'accelerazione, non attesa, negli Stati Uniti. A gennaio, il Personal Consumption Expenditures Price Index PCE, è aumentato dello 0,6% rispetto a dicembre, portando l'inflazione anno su anno al 5,4%. Le stime indicavano invece un tasso costante, al 5%. Il dato ha destato un certo allarme sui mercati, non tanto per la sua entità, l'inflazione USA è praticamente la metà rispetto a quella italiana, quanto per l'inversione di tendenza, il tasso aveva infatti rallentato negli ultimi due mesi del 2022. Anche in questo caso, è un elemento che potrebbe condizionare le future scelte della Fed. Le mosse di BCE e Fed ulteriori aumenti dei tassi sono scontati, ma un'inflazione che rallenta potrebbe evitare un'accelerazione nel ritmo della stretta. La BCE ha confermato che, a marzo, ci sarà un ritocco di 50 punti base. L'obiettivo resta sempre lo stesso, domare l'inflazione, per far sì che si mantenga attorno al 2% nel lungo periodo. Se il dato dell'unione è confortante, l'Eurotow dovrà però guardare anche ai segnali, molto meno positivi, che arrivano da oltreoceano. La Fed, nel meeting di inizio febbraio, ha aumentato i tassi di 25 punti base. Una mossa che ha trovato d'accordo quasi tutti i membri del Consiglio. Chi si è opposto avrebbe preferito un ritocco di 50 punti base. Troppo presto, però, per inaugurare una linea da colomba. Dai verbali della passata riunione emerge infatti la preoccupazione per i segnali di rialzo dell'inflazione, che, pochi giorni dopo, si sono concretizzati. Stop alle auto diesel e benzina il Parlamento europeo ha fissato, in modo inderogabile, la data, dal 2035 non sarà più possibile vendere e immatricolare auto a benzina e diesel. Un passaggio cruciale verso l'elettrificazione della mobilità, approvato con parecchi malumori, ai 340 voti a favore si sono infatti contrapposti 279 contrari, cui si aggiungono anche 21 astenuti. Il calendario della transizione è serrato. Già entro il 2030 le case automobilistiche dovranno dimezzare le emissioni delle proprie vetture. Ci sono delle deroghe. La scadenza non vale per le case che producono meno di 1000 vetture l'anno, mentre quelle che ne producono. Fino a 10.000 avranno un anno in più di tempo e potranno quindi abbandonare benzina e diesel alla fine del 2035. È molto probabile che nei prossimi anni verranno introdotti divieti di circolazione ai motori più vecchi e inquinanti, ma il provvedimento UE non riguarda direttamente l'usato. In sostanza, potranno continuare a circolare anche dopo il 2035 le vetture diesel e benzina già immatricolate. Il presente materiale di marketing è emesso da PICT e Asset Management, Europe, S.A. Esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict.e o in forma cartacea presso PICT e Asset Management, Europe, S.A. 6B, Roodoo Fortnieder-Gwenwood, L2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni di investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.pict.e nella sezione risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICT e Asset Management, Europe, S.A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne la proprietà tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso. Nei limiti del prospetto del fondo, gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dallo stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICT è nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICT e Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICT e Asset Management. PICT non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICT unicamente per finalità illustrative.